Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. A bordo di un treno, Bruno Vespa è stato protagonista di un acceso confronto con Matteo Gracis, fondatore del giornale L'Indipendente. Gracis si è avvicinato al noto conduttore di porta a porta chiedendo di scattare una foto, ma ha poi iniziato a registrare un video, accusando Vespa di essere uno dei professionisti della disinformazione. Vespa, colto di sorpresa, ha reagito con vehemenza, mandandolo a quel paese con un vada a fare in puntini puntini. Nonostante l'invito a smettere, Gracis ha continuato la sua critica, accusando il giornalista di essere al servizio dei potenti e di rappresentare un'informazione manipolata. Dopo l'episodio, Gracis ha spiegato sui social le motivazioni dietro il suo gesto, definendolo un atto di dissenso civile contro un giornalismo che, a suo dire, ha lobotomizzato generazioni di italiani. Ha sottolineato come Vespa e altri volti noti non siano abituati al confronto critico, vivendo invece di autografi e selfie, e si è detto soddisfatto per aver manifestato il suo dissenso.